Oggi parliamo di un problema che prima o poi tutti si trovano ad affrontare, ovvero la difficoltà nel gestire, creare, definire le priorità. Che tu sei un imprenditore, un libero professionista o anche solo una persona con mille impegni, sapere cosa fare prima può diventare letteralmente un incubo. Ti è mai capitato di avere la sensazione che la tua lista di cose da fare fosse infinita e non sapere da dove iniziare? Se la risposta è sì, sei nel posto giusto perché oggi parliamo proprio di questo. Il primo errore che facciamo è trattare tutte le attività come se avessero la stessa importanza. La verità è che non è così. Partiamo da un presupposto, se tutto è urgente, ha la massima priorità, vuol dire che niente lo è davvero. Infatti dobbiamo capire che cosa ha realmente un impatto sul nostro business o sulla nostra vita. La famosa legge di Pareto dell'80-20 stabilisce che l'80% dei risultati sono generati e arrivano grazie al 20% delle azioni fatte. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è chiederci quali attività generano il maggior impatto nella mia vita o nel mio business. Se non sai rispondere, probabilmente è arrivato il momento di fermarsi e riflettere. Un metodo semplicissimo per aiutare ad avere una panoramica più chiara di questa situazione è la famosa matrice di Eisenhower. Ovvero funziona così, ne ho già parlato più volte nelle pillole, in ogni caso lo riassumiamo velocemente. Dividi le tue attività in quattro quadranti, puoi tirare una linea verticale e una linea orizzontale e avere così quattro quadranti. E il primo quadrante riguarda l'importante e urgente e queste sono le attività da fare subito. Poi ci sono le attività importanti ma non urgenti e qui sono le attività che portano valore nel lungo termine e che dovresti pianificare con attenzione. Ad esempio lato business è proprio in questo quadrante che si pianifica la crescita dell'azienda. Quadrante numero tre, non importante ma urgente, se puoi delegale, se non puoi cerca di minimizzare il tempo necessario per risolverle. Purtroppo ci sono alcune cose che sei costretto a fare che non hanno un impatto importante nella tua vita ma effettivamente devono essere fatte. Ecco cerca di risolverle velocemente sapendo che sono cose da fare ma non avranno dei risultati che miglioreranno la tua vita. Quattro, non importante e non urgente, queste attività vanno eliminate o spostate in una lista a parte delle cose che farai in futuro. Questa matrice è veramente una figata perché ti permette di vedere in modo chiaro dove mettere il tuo tempo e le tue energie. Altrimenti come fanno la maggior parte degli imprenditori hanno una serie lunghissima di cose da fare che dal loro punto di vista hanno tutta la stessa priorità. Ma non è assolutamente così. Un'altra strategia che ho consigliato più volte nell'MBP lo riguarda quello diciamo del definire al massimo tre cose da fare al giorno. Quindi se tu dovessi fare solo tre cose oggi, quali sono quelle più importanti che devi assolutamente fare perché ti avvicineranno ai tuoi obiettivi? Ecco se riesci a individuare queste tre cose concentra poi la tua attenzione lì perché questo può realmente fare la differenza. E se hai del tempo in più, benissimo. Il resto è cose che farai che toglierai dai giorni successivi. La difficoltà a priorizzare è un problema che tutti affrontano, sia imprenditori che no. Il segreto però è agire con intenzione, cioè dovresti fermarti e valutare bene che cosa conta davvero per te. Dedica il tuo tempo a quell'attività che avranno un impatto più importante sul tuo business o sulla tua vita. Passare del tempo con la famiglia se per te è importante non può avere una priorità bassa perché magari hai un'urgenza al lavoro che lato pratico ti porta pochi risultati. Cavolo, capiamo bene che cosa importa davvero a noi e definiamo le priorità in base a questo perché ognuno di noi è unico e le priorità di una persona possono essere totalmente diverse dalla priorità rispetto a un altro. C'è chi lavora 20 ore al giorno perché è ossessionato dal suo business o vuole fare qualcosa di veramente importante nella vita dal suo punto di vista. Ci sono altre persone che usano il lavoro solo per avere il necessario per sopravvivere ma poi vogliono dedicare tempo ad altre cose che è quello che per loro conta davvero. Quindi non esiste una soluzione unica per tutti. Quello che conta è capire che cosa importa a te e in base a quello andare a definire le priorità. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ricorda che per riuscire a definire bene le tue priorità e poi ad agire di conseguenza, quindi cercando di non sprecare tempo, devi imparare a dire no. Ogni volta che diciamo sì a qualcosa stiamo dicendo no ad altre cose e spesso i no che diciamo sono no alle nostre cose per accettare, quindi dire sì a cose che di fatto non ci interessano davvero ma magari per non rendere scontento il nostro interlocutore. Ecco, questo ci sovraccarica e ci allontana dalle cose che contano davvero per noi, quindi ricorda che ogni volta che dici sì a qualcosa di poco importante stai dicendo no a qualcosa di cruciale per il tuo futuro. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!